Ebbene, io mi sono appuntato i tre punti specifici su cui richiamo brevemente l'attenzione per poi nella parte finale del mio breve intervento focalizzare su alcuni aspetti e su alcune questioni aperte. Tre punti, dicevo, mi sembrano particolarmente importanti senza nulla togliere ai molteplici altri profili che, come ho detto, consentono un approccio integrato al problema. Però mi sembra che questo sistema ha un cuore e il cuore è rappresentato dalla definizione della nozione di organizzazione criminale perché questo è il tallone di Achille di tutto il sistema. Se è indefinita la base, tutto il sistema può essere facilmente rifiutato da sistemi ordinamentali che non riconoscono la rilevanza criminologica e dunque il bisogno di tutela penale del cuore del problema. Dicevo i tre punti che mi sembrano aspetti di miglioramento del quadro normativo esistente rispetto ai due testi normativi, decisione quadro Unione Europea del 2008 e fattispecie della partecipazione all'organizzazione criminale nella Convenzione di Palermo. Innanzitutto il punto cruciale, quello della, si segnala, cito testualmente, una definizione di criminalità organizzata più in concreta che individui meglio le caratteristiche chiave del fenomeno, in particolare focalizzando l'attenzione sulla nozione chiave di organizzazione. Ebbene, proprio quello che rappresenta, come dice opportunamente, il testo della risoluzione, il clou del problema, restava nei testi precedenti sospeso in una definizione negativa. Ciò che non doveva essere, non era necessario che fosse, per meglio dire, non si richiede un'organizzazione particolarmente caratterizzata e così via. Elementi negativi che non dicevano invece in positivo che cosa occorreva che ci fosse. Ebbene, questa possibilità è oggi data attraverso il richiamo all'elemento chiave dell'organizzazione. A mio avviso, l'elemento chiave deve essere l'esistenza di una divisione dei compiti fra almeno tre persone ai fini della realizzazione di una pluralità di reati. E' noto un aggancio a questa possibilità di prospettare in una futura, vorrei che non fosse futuribile, nuova decisione, anzi direttiva oramai, in materia. Mi sembra importante il secondo punto che è noto nella relazione. E cioè il dato che la risoluzione chiede che per il reato di partecipazione in organizzazione criminale, pur nel rispetto ai differenti sistemi legislativi, venga studiata l'abolizione dell'attuale doppio approccio. Che cos'è questo doppio approccio in estrema sintesi? Per poter consentire un'ampia partecipazione dai diversi Stati membri, tanto all'Unione Europea quanto poi a livello globale delle Nazioni Unite, ha un testo comune, il legislatore internazionale, uso questo termine assolutamente a tecnico, ma per pensare a chi ha scritto queste norme, ha pensato ad una non soluzione. Cioè si è limitato ad accostare due vere e proprie diversità di struttura, il modello anglosassone costruito sul reato di cospirazione, tradotto in maniera tecnica in italiano, cospirasi nella formulazione originale, con il modello invece continentale dell'associazione Malfaterra che risale sino al codice napoleonico dell'inizio dell'Ottocento, che invece richiede appunto una struttura con un certo numero di soggetti, almeno tre. Questa giusta posizione di due diversi modelli, consentendo che gli stati membri poi scegliessero di incriminare l'uno o scegliessero di incriminare l'altro, senza dare nessun vincolo di avvicinamento, di armonizzazione, rappresentava una non soluzione del problema, con la conseguenza che, adesso ce lo diranno probabilmente coloro che si occupano quotidianamente di confrontarsi con le ricadute pratiche di questa grave situazione nella cooperazione internazionale, vi erano casi di rifiuto, pur avendo aderito alla Convenzione Onore di Palermo, di rifiuto di collaborazione per la diversità di traduzioni giuridiche, accorché ci fosse questo quadro, questo tetto comune. Evidentemente questa soluzione deve essere superata. È molto difficile riuscire a trovare una soluzione in proposito, perché trovare una soluzione in proposito potrebbe significare forzare l'uno o l'altro delle due tradizioni giuridiche verso un modo di uniformarsi all'altra tradizione, e questo avrebbe conseguenze politiche che non ci si può permettere. Probabilmente si può pensare invece ad un'espressa clausola all'interno degli strumenti convenzionali o di direttiva, se si muoviamo nell'ambito dell'Unione Europea, di riconoscimento reciproco, che non deve essere limitato solo alle decisioni giudiziarie, ma può essere anche applicato alle scelte legislative di stati sovrani che si riconoscono partecipi di una comune tavola di valori. Infine, molto brevemente, una cosa che mi ha lasciato veramente colpito, perché quando appunto nell'ambito di un progetto Falcon realizzato in ambito internazionale, le prospettai, la possibilità, anche in consessi internazionali, mi fu detto che sarebbe stata una cosa assolutamente impensabile. E cioè il superamento di un'altra aporia dei testi internazionali precedenti. Questi testi internazionali, essendo l'organizzazione criminale una struttura che ha un programma criminoso, per individuare questo secondo elemento finalistico di scopo del programma criminoso, individuavano reati che fossero puniti con una pena massima non inferiore a quattro anni. Io feci allora una breve ricognizione dei sistemi sanzionatori degli allora paesi dell'Unione Europea e su un reato chiave nel meccanismo di funzionamento delle organizzazioni criminali, soprattutto nel nostro contesto territoriale, l'estorsione, trovai delle significative differenze per cui, ad esempio, in Spagna, è punita con tre anni, non si potrebbe fare rientrare la nozione un'organizzazione criminale rivolta all'attività del racket estorsivo. Qui invece, opportunamente, si dice, cosa che appunto trovo piena concordanza con quello che avevo allora proposto, l'individuazione di una serie di reati tipicamente commessi da crimini organizzati per i quali, indipendentemente dalla pena massima prevista negli ordinamenti stati membri sia configurabile dalle fatti specie penali. Si supera un modello astratto, un poco meccanico, che può valere in contesti già di avanzata armonizzazione, direi quasi di unificazione sanzionatoria, in cui la pena è identica e quindi si può prendere come metro di misura per tutti gli ordinamenti. Fin quando non c'è l'armonizzazione delle sanzioni, quella può rischiare di essere troppo corta o troppo lunga per i vari ordinamenti. Vado a concludere con alcuni problemi aperti che invece individuo rispetto all'implementazione, che è poi il vero banco di prova. Il primo, opportunamente si fa riferimento, e lo si è detto adesso, si è richiamato adesso, anche l'attenzione ai testimoni di giustizia. A me pare che, vista l'ampiezza di questo... Scusi professore se la interrompo, ho dimenticato di dire prima, in questa sala ci sono testimoni di giustizia, ci sono familiari di vittime di mafia che noi abbiamo voluto portare proprio qui in Parlamento perché fossero anche loro comunque protagonisti di questo momento. Non posso che apprezzare questo approccio integrato, non solo diciamo normativo, ma anche esperienziale. Per quanto riguarda questo profilo, richiamerei l'attenzione su un dato. Si è fatto veramente molto, e questa risoluzione ne rappresenta veramente l'apice, almeno fino a questo momento, sul versante della armonizzazione dei profili di contrasto, costruita essenzialmente sul versante delle incriminazioni e delle sanzioni. A me pare però che sia ancora fortemente trascurato il profilo della armonizzazione delle legislazioni premiali. A me pare che rispetto al ruolo che, soprattutto in certi contesti, hanno storicamente giocato i collaboratori di giustizia in senso tecnico, vi è ancora una fortissima discrasia nelle risposte tra i diversi ordinamenti degli stati membri. Per fare un esempio semplicissimo, se un soggetto intende collaborare ma ha da raccontare di reati trasnazionali commessi in organizzazione criminale e può scegliere sostanzialmente tra due, almeno due ordinamenti in cui questi reati sono stati commessi, è assolutamente pensabile che rispetto al tanto paventato rischio del forum shopping sul versante degli autori del reato, si possa verificare una sorta di premium shopping, cioè il collaboratore sceglierà l'ordinamento giuridico che gli assicura la piena libertà o comunque un trattamento migliore. Ebbene, fin quando la dimensione della premialità in conseguenza dei comportamenti collaborativi non sarà stata armonizzata, si potrebbero verificare delle discrasie che mi sembrano da evitare. Secondo elemento, armonizzazione delle sanzioni penali. Siamo ancora di fronte ad una terra incognita per molti aspetti. Le scale sanzionatorie sono estremamente differenziate. Abbiamo ordinamenti all'interno dell'Europa in cui le sanzioni alternative al carcere hanno un ruolo fondamentale e il carcere ha un ruolo residuale. Ebbene, quando parliamo di armonizzazione di fattispecie importanti della criminalità grave, dobbiamo tenere presente che per un certo numero di fattispecie, un nucleo duro di fattispecie, per così dire uno zoccolo duro, bisogna trovare un avvicinamento tra i livelli sanzionatori che sono oggi troppo differenziati. Verosimilmente, qua è più facile, potando gli eccessivi massimi e gli eccessivi minimi e individuando un nucleo forte. Infine, il tema dell'implementazione di qualsiasi strumento e quindi anche di uno strumento così ampio come è questo che prevede verosimilmente a grappolo una serie di ulteriori iniziative della Commissione e del Consiglio e anche del Parlamento in procedura di codecisione. Il tema dell'implementazione è cruciale. Io mi limito per concludere ad un esempio. Quello che fu rappresentato come l'avvento, l'inizio di una nuova era, anche qui frase molto impegnativa, e cioè la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, che è stata votata nel 2009 dopo un lungo braccio di ferro tra Commissione, Consiglio e Corte di Giustizia, in questi pochissimi anni e soprattutto ora in Italia con il decreto legislativo di recepimento, ha sperimentato una radicale diversità di interpretazione da parte dei singoli ordinamenti nazionali, fra Spagna che ha riformato il codice penale del 2010 e l'Italia che appunto ha nell'agosto di quest'anno recepito la direttiva europea, è la Francia che decide di non dover modificare di una iota la sua legislazione, vi è una risposta assolutamente differenziata. Quindi meccanismi di controllo delle implementazioni che saranno molto più importanti di quando i documenti europei, prima le azioni comune e poi le direttive e poi le decisioni quadre avevano una forza anche di fondamento ben minore della legittimazione che invece questa importante risoluzione del Parlamento europeo per la quale esprimo tutta la mia personale, veramente personale soddisfazione, possa fare. Grazie e l'attenzione.